Toto Cormaci, descrivici questo gol su punizione. Non è tanto il mio gol su punizione, ma l'importante era vincere. Come ho detto a fine primo tempo ai colleghi di Stadio Radio, noi oggi dobbiamo vincere a tutti i costi. Sono contento per il bel gol che ho fatto, però sono contento soprattutto per la squadra perché ci serve, c'è morale. Mettiamo altri tre punti dentro, quindi arriviamo a otto punti in classifica. Ci risolleviamo un po' dalla sconfitta pesante e brutta che abbiamo fatto a Morrone per 3-0, senza mai giocare a pallone. Oggi a tratti abbiamo fatto i primi 20 minuti bene, secondo me, all'altezza di quello che possiamo fare e di quello che proviamo con i due mister durante la settimana. Dopodiché siamo un pochettino usciti dal gioco e poi il secondo tempo siamo riusciti, prima di questi errori che ci costano tanto. Ci sono costati con lo scalè e ci stavano costando oggi un'altra vittoria. Toto, come mai questa squadra va in appenea? Pare alcune volte che non esiste in campo. Che cos'è? Un problema atletico, un problema mentale? Allora, atletico no, perché comunque noi durante gli allenamenti ci sentiamo bene rispetto magari a qualche settimana fa che eravamo un pochettino bloccati. Comunque il prof sta lavorando bene. Tutti, o bene o male tutti, stiamo veramente bene con le gambe. L'appenea, secondo me, è da dare all'esperienza che questa squadra non ha. Come diceva il mister prima, la squadra, compreso me, è formata da tutti i ragazzi dal 96 in su, tranne 3-4 over che sono 90. Quindi, secondo me l'appenea è questa e non sappiamo gestire alcuni momenti della partita. Quindi andiamo di gioventù, andiamo di entusiasmo, andiamo di grinta agonistica che poi... Manca l'esperienza, Totò. Manca l'esperienza di saper gestire. Come è successo oggi sull'1-0, una squadra d'esperienza avrebbe magari gestito meglio la partita. Noi invece comunque andavamo, come dici tu, un attimino in apnea. Però l'importante poi è vincere, però l'esperienza si crea sul campo, quindi... Tu sei un jolly che ti sa adattare in difesa, in centrocampo, in attacco. Ma come riesci a giocare in tutte le tre fasi dello scacchiere? Vabbè, la mia forza fisica mi permette comunque di poter fare un pochettino tutto, al difensore centrale e all'attaccante. Poi, alla fine, per me questo non è un primo lavoro. Ecco, quindi per me questo è un divertimento. Cerco di dare una mano importante alla società, al ministro che me l'hanno chiesto all'inizio dell'anno. Quindi dove mi mettono cerco di dare il meglio. Poi ci sono dei ruoli in cui do meglio e alcuni ruoli in cui... Grazie a Totò Cormaci e veniamo a Carmelo Moio, il ragazzo di Bagnara, ancora una volta in gol. Il secondo gol stagionale con il Gallico Catona. Un bel tiro che si è infilato nel set, imprendibile per il portiere ospite Palumbo. Ce lo descrivi? Come sei riuscito a inventarti quella traiettoria imprendibile per Palumbo? Sono attimi i momenti in cui non hai modo di pensare come calciare. Ho puntato a quell'angolo e fortunatamente per la squadra, per tutta la squadra, staff e dirigenti, è andata bene. Come ti sei trovato con il compagno di riparto Crisalli? No, ma io mi trovo bene con tutti i compagni, indistintamente se sia Crisalli, Totò, abbiamo giocato insieme, anche una partita di attacco. Penso solo a fare il bene, a mettermi a disposizione della squadra e a mettere in atto quanto proviamo in settimana con entrambi i mister. Avete dimostrato anche saldezza di nervi, non era facile oggi battere il Soriano. Siete sempre in logorio, ogni partita diventa fondamentale per voi. Ma il campionato d'eccellenza è un po' in questo, tutte le partite sono difficili, tutte le partite si devono lottare fino alla fine, quindi noi diamo il massimo partita dopo partita per raggiungere i tre punti. Grazie ai gol ad or del Gallico Catona di quest'oggi, Totò Cormaci e Carmelo Moio, decisivi, che hanno steso la diretta concorrente per la salvezza, il Soriano. Grazie.